Per Little Service Pesaro è giunto il momento di cambiare marcia. Il secondo pareggio consecutivo arrivato venerdì scorso per 2-2 contro la Real San Giuseppe non ha scosso di tanto la classifica dei Biancorossi che dopo sei partite si trovano fermi a cinque punti. Un ruolino di marcia così poco positivo non rispecchia le ambiziosi aspettative del presidente Pizza, che nonostante il ridimensionamento della Rosa in estate, sa bene che trovarsi a un punto dai play-out non può ritenersi soddisfacente. Occorre invertire la rotta sin dal prossimo match in programma domenica 13 novembre dove Little Service andrà a far visita al Pistoia tra l'elegante cornice dello Sky Arena dei Salso Maggiore. Una smorfia che si potrebbe trasformare in sorriso. Dopo tre giornate di squalifica i ragazzi di Little Service potranno contare sul contributo di Mr. Colini, che torna a sedersi sulla panchina dei Biancorossi occupata momentaneamente fino alla scorsa partita dal vice Barnesi. Little Service che guarda con fiducia anche al reparto infermieria. Dopo aver recuperato Canal la scorsa settimana c'è grande attesa per il ritorno tra i convocati di Dalcin, out da circa due mesi e mai a disposizione finora. Una partita che potrebbe rappresentare la svolta per i Biancorossi e che si potrà seguire in diretta domenica sera alle 20.45 su Sky Sport. Da Little Service Pesaro calcia 5 all'Ital Service Loreto Basket, che a differenza ha iniziato il campionato come meglio non si poteva. Cinque vittorie su cinque con gli ultimi due punti ottenuti nel precedente turno al Pala Flaminia, strapazzando la Robur Falconara 86-61. La squadra di coach Foglietti non ha intenzione di interrompere questo buon periodo, cercando la sesta vittoria consecutiva sul campo dell'Atomica Basket sabato 12 novembre alle 18 al Palarota di Spoleto.